eccoci qua da Napoli Renault Clio con furore verso Roma Renault Clio R-Link provate a informarvi e vedete se riescono ad avere questa soluzione noi ci riusciamo recupero comandi al volante stazioni memorizzabili sempre dai comandi al volante e poi ci divertiamo con abbiamo la retrocamera originale perché la R-Link è la retrocamera quindi abbiamo recuperato anche la retrocamera del Clio R-Link ecco qui la state vedendo chiudiamo passiamo un pochino il volume poi ci divertiamo con tutta la sezione Android che ormai conoscete perfettamente è uno dei più venduti andiamo subito su YouTube eccoci qua poi lo stressiamo un po' andiamo indietro Play Store traffico e tutto display adesso torni a Napoli? si con un super prodotto? certamente posizione real time via numero uno Stefano possiamo gestirlo anche vocale possiamo cambiare la cartografia satellite la rimettiamo in predefinita tac vediamo se sei un nostro seguace qual è la parola d'ordine per gestire il vocale? a te l'onore vai audio elite grande però dobbiamo avere un tono di voce un pochino più marcato vai audio elite grande un saluto a tutti gli amici di Napoli e della campagna perfetto dividiamo lo schermo in due siamo pronti a usare tutti e due i prodotti la retromarcia la visualizziamo a metà oppure nel momento in cui mettiamo così andiamo a tutto schermo ricordate le cose fondamentali sono di chiudere le app ogni tanto tac andiamo a chiudere tutte le app e usare la chiusura della RAM che è questo il simbolo del missilotto che cosa vuol dire il missile? che è veloce rendiamo il tablet veloce perfetto vi ringrazio e buona giornata a tutti buon pranzo grazie a tutti